Musica Bella a tutti raga, qui è Pettodivino87 e oggi siamo tornati a un nuovo vlog Allora, questo vlog, probabilmente come gli altri, sarà un pochettino breve Allora, ho due, tre cosine da dirvi, se la prima facciamo valere come due Allora, cosa da dire? Allora, prima di tutto, 15 iscritti Altri due si sono iscritti al mio canale, queste due persone le conosco Quindi, ringrazio voi, Costanza e Leonardo per esservi iscritti al mio canale Grazie, 15 iscritti Allora, quindi, non sono assolutamente eccitato per questa cosa Cazzo, 15 iscritti in due mesi E quindi, possiamo passare tranquillamente alla notizia successiva Che, diciamo, è un po' la più importante Allora, io sto registrando il video oggi, lunedì 22 settembre Domani, che è martedì 23 settembre Che in realtà sarà due giorni prima di quando caricherò questo video Ho visto che su YouTube In teoria, ho la possibilità Di già, di caricare video più lunghi Quindi, adesso parlerò come se il video di domani lo avessi già caricato Che poi è l'ultima parte di Aoni Quindi, vi volevo dire Come ovviamente avete visto nell'ultimo video di Aoni Il video è leggermente più lungo Se me lo carica Quindi, da questo momento Vedete che i video Avranno una durata maggiore A tutto questo Cosa piacere, non piacere E queste cose qua Quindi, questa è la mia piccola notizia Volevo darvi E... Avrei anche una cosa a dire Ma non so se dirvela adesso Se lasciarve la sorpresa Credo proprio che vi lascerò la sorpresa Quindi, direi che potete lasciare un mi piace Un commento E iscrivetevi al canale Ci vediamo nel prossimo video, raga Ciao 3 Grazie a tutti. Grazie a tutti.